salve bentornati dal vostro luigi frio 85 benvenuti a questa nuova serie la faccio quest'ora e dieci e mezza di sera ed è pillole di salute parleremo di estetica parleremo di vera e propria salute e quindi anche di alimentazione dieta farmaci o comunque sia non solo medicina ma anche integratori alimentari vitaminici tutto ciò che può collegarsi alla salute in questa prima serie questo primo video di questa lunga serie che spero piaccia tanti parleremo di barba sono diversi modi nel senso che la barba si può mettere a far crescere diversi motivi io vi parlo da ex operatore sanitario quindi io vi parlo per quello che ho studiato all'università anche fatto sta che la barba si può far crescere per un motivo puramente estetico abbiamo già detto per seguire la moda oppure semplicemente per vari altri motivi di barba ne esistono diversi modi diversi modelli più lunga più dopo uno riesce a modellarla come di pare io ho tagliato un po qua un po qui e un po qui ma adesso devo fare tutto ricrescere posso vivere anche per nascondere la ciccia che c'è qua sotto che molte volte a noi maschietti non piace quindi questo video è praticamente per la barba quindi non per ferminucce ok perché le donne senza barba io le ho viste non esiste non con la barba non esiste una barbuta magari un po baffuta soprattutto per le donne con i capelli scuri mentre le bionde le rosse sto problema non ce l'hanno non la togliendo che sono belle tutte bene parliamo seriamente della barba la barba praticamente uno può anche usare il fatto di farla crescere anche perché non ha tempo di farsela piccolo accorgimento la barba è importante uno può tenerla può togliere anche perché sicuramente più magro e anche per filo però ci sono metodi diversi per togliere la barba se uno non la vuole tenere o il rasoio o la lametta in caso di lametta i migliori dermatologi suggeriscono sempre usare una schiuma da barba al mentolo perché aumenta la dopo un po che si è messa sulla faccia l'apertura del bulbo pilifero impedendo così il pelo incarnito e soprattutto facilitando così la lametta all'esportazione del pelo quando la barba è troppo lunga è meglio fare sempre dal pe il pelo da togliere la barba dal verso del pelo quindi dall'alto verso il basso e poi dopo per evitare quella parte raspa che sembra proprio raspi non è liscio andare contro pelo dando un altro po di schiuma una cosa importante non usare mai entrambe le tecniche prima il rasoio poi la lametta o viceversa perché si può creare una forte infezione alla faccia la pelle di noi maschietti non di tutti fortunatamente a volte può essere molto delicata come il sederino di un bebè e come tale va trattata quindi con creme dermatologicamente troppo giuste e quindi evitare che cosa evitare una bruttissima cosa che può creare crearsi a noi maschietti io l'ho avuta e si può creare 365 giorni l'anno questa cosa qua che adesso vi nomino si chiama follicolite da barba ma si può creare principalmente in estate io lo ebbi in estate qualche anno fa come si manifesta quando a volte il pulbo e il pilifero si infetta o perché si siamo grattati con le unghie sporche oppure si ha usato magari la tecnica della lametta che magari una lametta usata strausata e quindi si è già sporca e l'abbiamo infettato la pelle così oppure usando le entrambe le tecniche rasoio e barba e lametta insieme per questo si deve meglio usare o una tecnica o l'altra non c'è verso ovviamente la lametta deve essere quella in monouso si è ben tenuta se non è la barba troppo lunga quindi la lametta viene ben pulita si può riutilizzare altre due o tre volte per l'amor di dio si può usare benissimo altre due o tre volte l'importante è che prima dell'uso mentre si ha già messa la barba sotto 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 schiuma si mette un po di schiuma anche sulla lama dopo averla preventemente lavata dopodiché si ribagna e dopo ci si toglie la barba cosa succede con la follicolita da barba? Follicolita da barba non è altro che un'infezione del bulbo pilifero con produzione di sebo per quello infettivo sotto forma di brufoli pus e la faccia diventa anche molto pruginosa va molto prurito e quindi ti viene voglia di grattare ti infetti tutto come guarirla? crema al cortisone antibatteriche e soprattutto dopo che è passata delle creme linitive cosa importante non farsi mai la barba per un paio di mesi finché non passa l'infezione perché se no si irrita ancora di più un motivo in più per tenerla quando andai a fare visita dermatologica mi disse il dermatologo o trattoli tutti i giorni con la metta e schiuma da barba al dementolo però rischi lo stesso di irritare la pelle ed infettarla più velocemente perché comunque sia taglia che ti taglia e taglia puoi rischiare oppure te la lasci crescere per noi maschietti per chi ha avuto la follicolita da barba noterà che probabilmente magari sulla testa magari quello è un problema di fegato che si formano delle crosticine come forfora chiamata forfora che poi alla fine sono delle micro croste latte come quelle che hanno i bambini neonati e sono per noi maschietti adulti dovuta al fegato principalmente se ci sono dei problemi qua sulla barba invece possono formarsi delle crosticine bianche con produzione di sebo cosa vuol dire è un principio di rifollicolite che si può rimanifestare in certi punti che sono stati più delicate tipo a me è qui in questo punto qui e in questo punto qua dove c'è la fossetta del mento mi si formano delle croste bianche non so se si vede ma si intravede ne ho ancora un po e fanno un po di vedete fanno fanno un po di prurito però se io non le tocco visto che il bulbo perifero è già fuori dalla pelle quindi non può infettarla di nuovo semplicemente si dà una leve grattatina con un pettinino di quelli molto sottili o con le unghie leggermente così senza senza esagerare vedete che se lo faccio vedete il mio maione qui che si forma vedete che c'è del bianco che cade è un po di quella piccola crosticina che si può formare ma ogni tanto dovuto a sudore quant'altro che è preventivamente ricorda un po la folicolite perché dà quella sensazione di solletico però basta non toccarlo e sei a posto questo per chiunque ha deciso di tenere la barba lunga perché magari ha avuto già un episodio di folicolite da barba per chi invece non ha mai avuto la folicolite ma vuole lo stesso tenere la barba sape che è bellissimo perché è comoda morbida alle donne piace a volte e che non basta perché poi è tradotto adesso anche alla moda e soprattutto più si fa crescere e più bisogna tenerla curata la barba con delle creme anche uno dice no la pelle coperta che do la crema e no la crema viene assorbita dal pulpo quindi bisogna massaggiare bene la pelle sopra la barba e lavarla spesso quando si lavi la faccia ti lavi tutto molti dicono che i peli più sporchi e pieni di germi infetti tutto il resto del corpo umano di un uomo di una donna è proprio la barba quindi solo di un uomo in questo caso è sbagliato in qualche modo perché comunque sia noi tutti ci laviamo noi tutti facciamo la doccia noi tutti abbiamo da ci laviamo la faccia la mattina quando ci si alza e quindi di conseguenza acqua e sapone quello detergente neutro scegliete voi quello che vi più vi aggrada soprattutto il balsonese sapone di marsiglia sarebbe l'ideale e ci si lava bene la barba facendo proprio facendo vedere proprio la cremina proprio come una sorta di crema massaggiando massaggiando lasciando agire qualche secondo e poi acqua fresca go go è finito discorso lì questo è importante da sapere sulla barba poi uno si può divertire si fa crescere i baffi e tanto la barba se la fa venire lunga 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 fino a qui poi se la fanno tagliare dritta la fai egiziano un po a punta un po come vi pare la barba non è personalizzabile come i baffi d'altronde sono personalizzati cosa possiamo utilizzare per aiutare la barba ma innanzitutto anche l'alimentazione con l'alimentazione basta mangiare delle gran verdure tipo anche spinaci zucchine carote poi ogni tanto una cosa carina per chi ha la follicolite è darsi dell'olio d'oliva dell'olio d'oliva sembra una stronzata ma è così passare con la mano un po d'olio d'oliva e massaggiare qui tutta la pelle della barba tutta lasciare un po l'olio d'oliva quindi fatelo senza questo senza maione canottiera e via dell'olio d'oliva ma ben proprio un bel massaggio fatto come si deve fosse una crema che proprio penetri attraverso il pelo e vada sulla pelle questo aiuta anche per i capelli se una delle croste come la forfora a farsi fare dalla propria ragazza o da qualcuno che può aiutare grattare via un po le croste e poi darci dell'olio d'oliva massaggiando bene e poi piano piano ripassarci col pettinino tirando via i rimasugli di croste che ci sono di forfora qual di si voglia lasciare agire e poi dopo lavarsi con un sapone neutro e uno shampoo neutro non alla bicocca non alla mandorla soprattutto perché le mandorle hanno fastidio alla pelle che che ne dicono alcuni 90 per cento della popolazione alla mandorla c'è allergico e non se ne accorre come la storia dell'olio di palma tra virgolette però in questo caso l'olio di mandorla può dare irritazione può dare fastidio alla pelle perché in quel momento è stata un po irritata dalla terapia che in questo caso può essere l'olio una crema quant'altro ci si sa una bella sciacquata si si asciuga prima con l'asciugamaro e poi col phon a temperatura non troppo elevata calda perché anche il troppo caldo può dare fastidio alla pelle poi sulla barba credo che non dovrebbe dire niente poi c'è chi se la tinge perché non vuole far vedere i piedi bianchi per il resto credo di aver detto tutto esistono volendo se uno vuole anche degli integratori per la cu per la barba per le dicote vitamine in farmacia ma sono più per la pelle che per la barba stessa ne anche per la crescita rapida della barba non serve quello che si usa per la crescita dei capelli una cavolata quel meglio lasciarla crescere naturale e via col tempo si ci sia giusta per questo è tutto penso di aver detto tutto sulla barba per questa volta per questa sera spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi tutti i vostri commenti qui sotto e spolliciate tanti like raggiungiamo almeno 10.000 like e io vado avanti con la serie se vi è piaciuta già la prima parte con altre pillole insomma di salute pillole di salute ditemi voi su cosa volete che faccio queste pillole di salute ditemi voi argomenti se vi interessano che possono variare dal tutto il corpo umano in tutto il corpo umano ogni organo che c'è sul corpo umano tutto quanto detto questo vi saluto buona serata a tutti ciao